L'eleganza italiana è espressione di linee semplici, di linee fluide, understated, quelle bellissime di una Aurelia o di una Flaminia. Vogliamo fare del brand Lancia, un brand rispettato nel mercato premium europeo. Vogliamo che la gente desideri guidare, desideri possedere una Lancia. Questo è per noi il rinascimento di Lancia. La renaissance di Lancia comincia prima di tutto nella sua storia, nella sua heritage, nella sua valore. La nostra storia deve essere considerata con la più grande rispetto. Da qui sono le elementi essenziali e fondamentali della marca. Io sono radicolato, un elegante all'interno. Mi piace definire Lancia una marca progressiva e classica. Classica perché è molto legato alla sua splendida storia lunga più di un secolo, ma progressiva anche di più perché guardiamo al futuro con grande ambizione. Pura è l'essence del nuovo design di Lancia. La sintesi di due parole, pura e radicale, che interpreta bene la dualità di Lancia in sua storia e che va nourrire il suo futuro design. Nasce così Lancia Pura Zero, che è il manifesto di design su cui costruiremo la gamma futura di Lancia. Il nostro sogno è creare un linguaggio di design senza tempo, un linguaggio che possa durare per almeno altri cento anni.